Ciao, mi chiamo Cristina, ho 23 anni. La mia azienda è situata ai piedi dei Colli Tuortonesi, in provincia di Alessandria, ed è evocata a culture come cereali e foraggere. La mia azienda è stata fondata da mio nonno, successivamente proseguita da mio papà, il quale purtroppo mi ha lasciato a causa della sua morte prematura l'anno scorso e quindi a sua volta ho deciso di proseguire la sua attività continuando appunto a far crescere la mia azienda agricola. Ad oggi noi ci occupiamo appunto di agricoltura estensiva e appunto la nostra azienda si sviluppa su una superficie di 300 ettari situati in parte nella zona collinare e in parte nella pianura che costeggia tutto il torrente Scrivia. La mia azienda la coltivo ogni giorno con passione e diciamo soprattutto con tanto sacrificio poiché è stata un'azienda caratterizzata da un assemblamento di terreni i quali sono stati accorpati con molta fatica nel giro di molti anni da parte di mio papà. Questa azienda a me da per ora sta dando molte soddisfazioni nonostante appunto l'impegno che richiede però diciamo che come ogni attività dà i suoi frutti e quindi a sua volta molte soddisfazioni. Sono venuta a conoscenza dell'azienda T-Mac grazie al tecnico di zona Marco Damaschi con il quale mi scambio molto frequentemente tutti i problemi e anche diciamo i confronti sulle mie culture. Ad oggi con questa azienda abbiamo avuto ottimi risultati poiché appunto all'interno delle nostre culture abbiamo visto proprio dei buoni risultati. Io ho utilizzato soprattutto prodotti nel campo cerealicolo infatti culture come il grano, il lorzo ma anche sulle foraggere come soprattutto nel sorgo. Ho utilizzato prodotti della gamma TB per quanto riguarda le culture presemina e prodotti della gamma Rizovit come azotati. Io ho notato sulle mie culture un aumento soprattutto legato alla resa ma anche diciamo oltre quantitativamente anche un aumento di qualità soprattutto perché questa cosa l'abbiamo potuta anche notare nelle annate come ad esempio la scorsa molto siccitose per cui la differenza si vista. Come progetti per il futuro essendo un'azienda appunto giovane mi auguro di poter comunque allargare le mie produzioni e soprattutto specializzarmi su prodotti sempre più di qualità che possono essere competitivi sul mercato e quindi possono avere un valore aggiunto.